Strascico polemico all'indomani della sottoscrizione tra le parti dell'ipotesi di accordo per il ricollocamento di 27 lavoratrici della RSA Borsieri di Lecco. In una nota le federazioni Fisascat e FP della CISL Monza-Brianza-Lecco, che seguono rispettivamente il personale della cooperativa KCS e della Fondazione Sacra Famiglia, nonché la segreteria confederale, non mancano di rilevare come i colleghi di Will e CGL si siano precipitate ad intestarsi un'intesa che di fatto ad oggi non è ancora stata sottoscritta definitivamente, si legge nel comunicato. È davvero stucchevole la corsa a dipingersi come gli unici salvatori delle 27 lavoratrici della RSA. La realtà è che il percorso complicatissimo è stato affrontato con determinazione da tutte le organizzazioni sindacali, anche quando ormai pareva che non vi fossero più possibilità. Si attende infatti che siano soddisfatte tutte le condizioni che entrambe le aziende hanno posto nel preaccordo sottoscritto lunedì. Se un solo lavoratore non firmasse, il pacchetto salterebbe per tutti. Non dimentichiamoci, continua la nota, che non è stata ancora revocata la procedura di licenziamento dei 24 lavoratori della cooperativa KCS, dichiarata a seguito della cessazione dell'appalto e che gli stessi sono stati collocati in aspettativa senza retribuzione dal 1 di luglio. Questo comunicato, si legge infine, non vuole essere una sterile polemica per cercare visibilità ma intende portare a conoscenza della collettività che ha seguito in questi mesi con interesse e partecipazione le vicende della Fondazione Borsieri, lo sforzo che la nostra organizzazione ha speso insieme a tutti i soggetti e che auspichiamo porti alla soluzione definitiva della vicenda. Se ci sarà una vittoria, sarà quella dei lavoratori e delle loro famiglie. I sindacati, ricorda la CISL, avranno fatto semplicemente il loro mestiere, quello di tutelare il personale.